ciao a tutti noi siamo la compagnia la ribalta di salerno e saremo a roma con il nuovo viaggio di capitan fra cassa che è uno spettacolo di commedia dell'arte scritto da noi sono con i miei attori abbiamo il capitano ciao sono il capitano olpina fiamma e mi raccomando roma è pure casa mia vedo la divedere e io sono bulle ce nello e poi c'è qua la zecca lui non è presente più con noi perché è andato aveva freddo di arrivare a roma oh e quindi venite a vedere il nostro spettacolo perché è una cosa bellissima la commedia dell'arte è piena di rilassi di movimenti di maschera di scherzi di acrobazie di tante cose quindi veniteci a vedere a roma vi aspettiamo il 26 27 28 ottobre al teatro copo ciao ciao questa è la storia di una compagnia una compagnia di gironi di gritti di salti in baggi capitano ma capitano 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 ma che c'è venuta una paresa chi è venuta una paresa nooo stop a parlare ciao 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 ciao